1.928 verbali in poco più di due mesi sono stati elevati dal dispositivo Scout Speed fortemente voluto dal sindaco di Albanella Renato Iusca, ufficialmente per garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine. 354.752 euro è l'incasso previsto di cui una parte verrà versata nelle casse del comune dalla società di gestione, ma il limite di velocità imposto sulle strade provinciali dove entra in azione l'autocivetta in uso alla polizia municipale ha trasformato il dispositivo mobile in un vero e proprio bancomat con sanzioni che superano i 500 euro in alcuni casi. In lacrime molti cittadini che non sanno come pagare le molte. Si tratta soprattutto di pendolari, operai e allevatori, presentato un dostier al ministro Minniti e all'autorità anticorruzione perché tale dispositivo violerebbe la vigente circolare ministeriale sul corretto utilizzo degli autovelox fissi e mobili.